Poi, io ho prima direvoce, da noi siamo in un'isložbo per i su subarti. Ok. 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 e quindi il resto tutto quello che i водici sono stati giudici sono stati e quindi ci sono stati molto prego ma sono stati scrisi ma siamo stati scrisi ma sono stati scrisi i profesi ho affatto sono stati insoliti ma io ho stati scrisi sono stati scrisi i nostri alcuni sono stati scrisi ma anche qui vedete che sono molto pieno di jedara e mi sembrava solo di questo che la jedera che è sordata in parallelo con me e con mia mamma che è riuscita la ruota di radia con i grattini che è la mia mamma che è la mia è una che vera è una che vera, è una cosa che vera è una cosa che vera ma è una cosa che vera ma è una scuola di Polo Elementarević, perché è il nostro luciano e il riempio di Fiumano, che si stava iniziando la tradizione o Bittescu. Credo che la storia ovunque, ovunque c'è ovunque ovunque, ovunque c'è ovunque c'è ovunque c'è ovunque, c'è il nostro luciano, e possiamo dire che non stava iniziando. E sicuramente sono che queste attivazioni, n'egove sada, non devono essere utile, ma che si stava iniziando, ma che si stava iniziando, che si stava iniziando, che si stava iniziando, guardando le storie, le brodove, normalmente sve to ide po moro, ma è sempre quello che ho chiamato, 70.8% è mora, a la nostra Puglia Zemaljsko, 29.2% è kopata, ma è chiamato il nostro naziv, a dobbiamo ora, non c'è quello che è nel Sverno, che è nel Južnoj hemisferi, a l'Iber, che è nuovo, che si stava iniziando, da oba ova dva projekta, che si stava iniziando oggi, i 10. studiata, da l'Iberna. Želim da si vediamo, dugo godina, evo, na kraju, mi è stato da ovun'izložbu Jedra, Jadrana, otvorim, e da sauživanje da l'Iberna. Hvala, da l'Iberna. Predražujem, ova zgrada, predražem direktorima Pomorskog muzeja, i ostalim funkcionerima grada, koji nešto mogu napraviti. Muzej, Riječki muzej, ova zgrada ovdje, oni su ocelili dio prostora. Predražujem da se tamo nađu tri sobe, i da ovi lijepi brodovi, i drugi brodovi, koji se svuda nalaze, pod prašinom, skriveni, pokriveni, zaboravljeni, da budu tamo izloženi, da PED ima jednostavnu gradsku postavu na čast grada, što ima takoga prograditelja. Hvala vam.